Potrebbero essere stati due punti persi? Può darsi, ma secondo me è più un bel punto guadagnato su un campo difficile contro un'ottima squadra. Come ho detto prima, ci abbiamo provato, soprattutto nel finale. Abbiamo dato prova di carattere perché non era facile. Arrivavamo da due risultati negativi, compreso quello in casa. Quindi siamo stati bravi a... È una bella prova di carattere, siamo stati bravi a riprendere e ci abbiamo provato fino alla fine. Questa prova indirettamente è stata anche una risposta di questa squadra dopo il mercoledì da dimenticare. Certamente, io credo che nel corso di una stagione ci siano dei momenti in cui sbaglio una partita. Può capitare, capita anche alle grandi squadre. L'importante è non mollare. La fortuna del calcio è che è sempre la possibilità di rimetterti in gioco pochi giorni successivi alla brutta figura. Quindi l'unica cosa che si può fare è appunto quella di tenere botta, di andare avanti, continuare a lavorare e poi i risultati arrivano come le prestazioni. I vittori sporti non ci piacciono. Noi dobbiamo fare sempre ottime prestazioni. Forse ci manca quel pizzico di malizia in più, non lo so. Però l'importante è andare ad analizzare la partita, l'importante è stata la prestazione.